bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video allora devo fare un video abbastanza veloce perchè ho la mia ragazza in macchina che mi sta aspettando e era per dirvi soltanto che se vedete che ho montato gli ultimi video e c'è pochi minuti ho sbagliato la conversione dei video ecco perchè non è colpa di action che mi ha sballato tutto ho scoperto che era tipo l'ho messo in punto move e ho sbagliato e ho cancellato anche i video convertiti vecchi non convertiti quindi ragazzi mi scuso per questa cosa mi scuso veramente con center row non farò lo stesso errore non le convertirò li caricherò manualmente come sono messi e ci vedremo con la serie di center row mi raccomando in tanti by pollution in su commentate condividete tra poco aggiungerò in descrizione a questo video che non l'ho fatto con gli altri il team speak se mi volete parlare o intanto se volete parlare anche tra di voi mi raccomando seguitemi in tanti commentate condividete i video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto vi ricordo che siamo arrivati a 8 iscritti per lo meno voglio arrivare a 10 iscritti che farò uno speciale per voi e che altro e consigliatemi giochi da fare per alcune serie bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi Grazie.